ciao amici buona giornata buona giornata a tutti come come essere vincenti come essere vincenti come essere per essere vincenti bisogna mischiare le esperienze di più figure professionali allora o c'è il tuttologo quello che sa tutto ma non può sapere tutto per sapere tutto deve arrivare a mischiare i saperi di varie figure professionali non si può dire insomma va bene quelli che sanno di là e quelli che insegnano di qua quelli che insegnano di qua i professori i professori si devono mischiare si devono mescolare con gli allievi i professori devono mettersi dall'altra parte i tecnici devono mettersi dall'altra parte e ascoltare e ascoltare e anche le cose minime e cercare di capire quello che stanno dicendo gli allievi o gli atleti cosa succede adesso apro una piccola parentesi polemica perché oggi in italia io ho visto chissà poco si blinda nel suo sapere ha paura che gli venga rubato il sapere invece di diffondere la cultura come facevano i benedettini che scrivevano scrivevano questi scritti per diffondere la cultura l'ignoranza di tali persone l'ignoranza di tali persone e tendono a chiudere e a non diffondere il sapere certo che io diciamo così qualche volta mi sono sentito un po vittima di questo sistema ho cercato sia come tecnico che anche da altre cariche della federazione mi sono sentito un pochino vittima del sistema e alla lunga secondo me arriverà un giudizio per tutti e io qualcosa vorrei fare il mio sogno insomma fatto 600 gare di triathlon qualcosa vorrei fare non mi fanno entrare non capisco perché non mi vogliono fare entrare a me nel sistema allora diffondo gratuitamente come un benedettino san frate bertha benedettino dovrei fare un video con la colla ce l'ho il vestito da benedettino quindi torniamo al dunque finita questa parentesi polemica allenamento io devo dare una medicina la dose di allenamento c'è la risposta dell'atleta con una sequenza di allenamenti che io come tecnico esperto devo avere bene in testa non devo proviamo devo avere ben chiara qual è la sequenza di allenamenti dove voglio portare che voglio portare con l'atleta anche perché ogni atleta diverso ogni atleta al suo dna e gli effetti di combinare i vari e possono essere diversi gli effetti di combinazione dei vari metodologie di allenamento quindi analizzare l'allenamento giornaliero l'allenamento giorno per giorno l'allenamento settimanale avere ben chiaro l'allenamento mensile la progressione annuale che si vuole fare e perché per ogni atleti posso ottenere risultati differenti secondo il concetto che oggi viene definito come sequenting parolone il concetto sequenting quindi io come tecnico esperto parlo di sequenting va bene e quindi il tecnico esperto deve avere nella testa questo concetto allenatore noi come in italia come allenatori siamo sempre abbiamo sempre basato molto sull'esperienza su il tramandare delle nozioni da persona a persona e per certi tipologie di allenamenti non c'era neanche evidenza scientifica come lavoro senza evidenza scientifica senza metodo senza criterio senza sapere la tabella è questa i chilometri sono questi come fai a uscire fuori dagli schemi della tabella come fai a uscire fuori dagli schemi semplicemente facendo allenamenti a cavolo lui dice a cavolo come si fa a fare allenamenti a cavolo ma la natura è regolata da tutto ordine o la natura è regolata dal disordine che cosa è regolata la natura la natura è regolata da un estremo disordine di cose vediamo il reticolo dendritico dei corsi d'acqua che hanno allagato le pianure alluvionali in maniera completamente casuale e disordinata tanto per fare un esempio a cavolo e quindi se la natura è regolata da disordine per certe persone è un caso arrivare a vincere la medaglia olimpica sì ci sarà l'allenamento ci sarà quello che vuoi la preparazione dietro ma ci sarà stato anche qualche disordine che gli ha permesso di arrivare a quell'evento in maniera disordinata e di vincere la medaglia olimpica ma a me viene zatto perché per esempio 5.000-10.000 maratona dopo essere stato 20 giorni a letto cioè non mi dire che è una casualità questa per un infortunio è stato 20 giorni costretto a star fermo ma quando è uscito da letto c'era l'energia che gli esplodeva anche fuori dai cappelli e la voglia di fare è riuscito in quei pochi giorni di riprendersi e di arrivare pimpante per vincere tre medaglie olimpiche perché in maniera disordinata prima esagerato e si è rotto quindi certe volte si lavora sulle evidenze scientifiche e certe volte no perché l'importante è che l'allenatore deve prendere delle decisioni che hanno un effetto sul carico dell'atleta quindi l'allenatore ha una grande responsabilità certe volte l'allenatore non l'ascorta e da me capita nelle persone che vogliono fare lunghe distanze che questi fanno sempre troppo fanno sempre troppo e non scaricano tendenzialmente sento anche il girasole e mi dico cos'è che sbagliano i tuoi atleti fanno sempre troppo anche il gira mi ha detto questo commento in due parole sintetico, ermetico e sempre fantastico ciao Federico purtroppo in Italia più sai ma no in Italia, nel mondo, almeno io nella cultura più sai e meno sai come diceva Fabio Vedana quando ha cominciato a sapere le cose si è reso conto quanto poco sapeva più sai e meno sai e bisogna avere sempre fame stay angry, stay foolish devi avere sempre fame e non berti tutto quello che ti dico vabbè andiamo avanti allenamento è una cabolata fai il riscaldamento fai il corpo di allenamento e fai il defaticamento tutto lì no? che ci vuole? l'importante è come con cosa mettere dentro come combinare l'allenamento con la forza e la resistenza con la forza e la resistenza se sono cose due se sono biologicamente incompatibili la forza e la resistenza perché io devo allenare forza e resistenza assieme? se sono biologicamente incompatibili ma abbiamo visto che ci hanno dato risultati tangibili ancora oggi questo allenamento è un argomento molto dibattuto non ci sono proprio evidenze scientifiche su quanta forza, quanta resistenza ancora non è stato dimostrato però come diceva William Shepsy andiamo avanti così senza indugio se funziona andiamo avanti andiamo avanti ad allenarci con sangue, sudore e lacrime quindi lacrime che possono essere lacrime di felicità di emozioni, di fatica ma sempre emozioni fortissime ci dà questo magico mondo dello sport e in più oltre all'allenamento che cosa cambia? la fame la fame che ogni atleta deve avere l'IVA l'IVA il 20% il 22% in più che differenzia un atleta da un altro quel 20% in più che gli fa fare qualcosa in più nell'allenamento quella determinazione quella voglia quella fame quel desiderio se sei troppo agiato ricco sei bene non ce l'hai questa fame non c'hai questa voglia di raggiungere il più forse per quello che io sono ancora qui pensateci quindi la performance che cos'è la performance? quindi la performance è l'allenamento più la fatica allenamento più fatica che l'atleta può fare diversa da ogni atleta la prestazione che cos'è? che cos'è la prestazione? da cosa dipende? dal metodo di allenamento dai mezzi che ho a disposizione e dall'allenamento posso allenarmi in piscina? ho la palestra? posso utilizzare tutti gli esercizi particolari? macchine particolari per fare un certo tipo di allenamento? e quindi il programma non si può fare come ho fatto un video sulle tabelle di allenamento non puoi fare una tabellina e tanti saluti il programma è da adattare continuamente da personalizzare per ogni atleta e chi ha avuto la fortuna di seguirmi sa quanto io ci tengo nella personalizzazione dell'allenamento e nel reciproco scambio di sensazioni di emozioni di fatica di tipologia di allenamento come stai? come hai fatto? e quindi avere è questo l'estrema personalizzazione per me l'allenamento di che cosa? di un sistema aperto matematicamente l'allenamento è un sistema aperto cos'è un sistema aperto dal punto di vista matematico? io so come risolverlo cambio le variabili per arrivare a una soluzione questo è un sistema aperto io cambio le variabili per arrivare sempre a una soluzione del mio sistema quindi non ho dei punti fissi nell'allenamento ho delle variabili che io cambio in continuazione per arrivare a vincere a vincere o a stare bene a stare in salute e a essere sereno a stare in salute e a essere sereno questa è la cosa più importante e farlo divertirlo l'atleta deve sempre divertirsi allora quindi l'allenatore cosa deve fare deve controllare l'allenamento saperlo regolare saperlo cambiare in continuazione analizzare come sta l'atleta le risposte biologiche fisiologiche soprattutto per evitare l'overtraining perché con l'overtraining poi l'atleta deve stare fermo una settimana 10 giorni 20 giorni sei completamente bollito non vai più avanti chi ha fatto sport e questa è la differenza quando vai anche a seguire dei corsi senti nella persona che parla la differenza se è uno che ha studiato o se è uno che ha praticato è veramente veramente una differenza allucinante io la trovo questa nel sentire la differenza di chi spiega di chi si è sporcato le mani oppure chi ha solo bagnato il dito per girare la pagina questa è mia allora riscaldamento poi devo fare un allenamento intenso se no non c'è miglioramento ed è faticamento la forza la forza massima cos'è? perché è importante andare a simulare la forza nel riscaldamento? perché predisponi le fibre alla fatica fare dei piccoli richiami sulla forza massima vai a predisporre le fibre alla fatica quindi la forza massima la puoi andare a allenare nel nel riscaldamento nell'allenamento nel defaticamento quando andrà nella forza massima? certo si sa che il riscaldamento che cosa che cosa ti aiuta il riscaldamento? il riscaldamento ti favorisce un aumento della temperatura corporea se non sei in ambiente troppo caldo perché se no lì dovresti fare il raffreddamento quindi favorisce un aumento una temperatura corporea maggiore favorisce un aumento degli scambi gassosi e intra-extracellulari e quindi come deve essere fatto il riscaldamento? ha una certa intensità è progressivo quindi un'intensità progressiva quindi da lento a salire andare su forte per esempio ti facciamo subito un esempio se tu tiri su dei pesi poi sollevi un secchio d'acqua il secchio d'acqua ti sembra più leggero è normale quindi se tiri su dei pesi poi devi sollevare un secchio d'acqua ti sembra più leggero quindi questo ti fa capire con questo semplice esempio che cosa può servire il richiamo sulla forza massima nei saltatori per esempio empiricamente si è visto che chi faceva forza massima prima saltava meglio o faceva chi doveva fare dei combattimenti combatteva meglio o chi o anche quelli della Sky i ciclisti si è visto che prima delle cronometro facevano dei richiami di forza sulle macchine andavano più forte in bici e quindi è ancora dibattuto il concetto di quanto fare la forza e quanto farne quando farla quanto farne come farla perché forza è facile forza allora uno dice ho capito tutto ho capito tutto faccio a forza ma quando come e quanto quindi anche perché bisogna testare i propri atleti se uno è abituato conta anche il concetto di abitudine perché se uno se l'atlete è abituato a farla la forza sicuramente potrà avere il giovamento se uno non l'ha mai fatta non puoi fargli fare degli esercizi di forza massima prima della gara o nei giorni prima della gara come fare la forza massima e lì dipende anche se l'atleta è allenato o non è allenato perché se l'atleta è allenato puoi fare dei lavori anche di 5-7 minuti di forza massima se l'atleta non è allenato devi fermarti a 30 secondi sennò poi non cammina più non cammina più cosa fare serie multiple serie uniche diciamo che per me e per altri tecnici l'esercizio di forza massima migliore di tutti è lo squat vediamo un po' se riesco a fare o ve lo vedere è lo squat lo squat alto lo squat alto lo squat a 90 gradi lo squat di questo tipo qui e quindi siamo passati anche dalla teoria e la pratica lo squat alto fatto uno in punta di piedi perché così lavora tutta la catena muscolare posteriore dal polpaccio quadricipite bicipite femorale e gluteo dinamico non andare tutto su e neanche tutto giù e e quindi questo squat alto ti permette di svegliare tutto il sistema favorisce l'attivazione e il miglioramento quindi anche cosa si potrebbe fare delle corse tecniche nel riscaldamento balzate per usare bene i distretti mescolari che ti serviranno poi nel gesto tecnico della corsa quindi fare della tecnica di corsa molto di qualità che però lavori sulla forza quindi sulla reattività e sulla forza esplosiva e dinamica del piede funziona la forza prima di una gara? funziona la forza prima di una gara? ma allora sì si sa che funziona ma non ci sono non ci sono pubblicazioni scientifiche chiare che qualcuno dice di sì qualcuno e qualcuno altra è contrastante e si sa che la forza che cosa cambia? cambia la modalità di reclutamento delle fibre le fibre possono essere più reattive o meno reattive e quindi cambia questa modalità di reclutamento sappiamo che lo stretching si fa o non si fa ultimamente lo stretching è stato bandito negli anni 80 quando facevo mi allenavo io negli anni 80 solo stretching di mare di stretching prima della gara stretching io mi fasciavo di stretching prima della gara e adesso da un periodo da un anno all'altro è stato abbandonato quindi vediamo come cambiano le tipologie di allenamento gli hanno detto sì lo stretching ha un effetto depotenziante sui test fatti l'atleta salta meno però anche lì vedere che tipo di stretching fare uno stretching statico dinamico lo conclusione lo stretching dinamico fatto 6 secondi potrebbe avere dei risultati positivi certo bisogna vedere sempre l'atleta se l'atleta si sente meglio come fa un certo tipo di stretching e allora se si sente meglio lo può fare l'importante è che il giorno della gara non si faccia una novità come spesso si vede fare a certi atleti che non hanno mai fatto niente si vede fare degli esercizi stranissimi movimenti di braccia frenetiche cose incredibili tanto per non so è quasi per mettersi in mostra il giorno della gara quindi no nulla di tutto questo beh cosa si è visto si è visto comunque che se tu fai stretching e poi fai questo è un dato scientifico e poi accoppi degli esercizi di skip e di forza praticamente lo skip e la forza annullano gli effetti negativi dello stretching questo è interessante degli esercizi di skip e di forza vanno ad annullare l'effetto negativo prestato dallo stretching quindi e quindi attenzione l'effetto negativo dello stretching va via in poco tempo questa è una cosa interessante da trasmettere ai tecnici l'effetto negativo dello stretching va via in poco tempo e e quindi palestra uno va in palestra come l'altro in palestra per gruppi muscolari io quello che consiglio è lavorare prima sull'addome e poi passare ai quadricipiti e ai bici di femorale e poi passare ai polpacci se vuoi fare dei lavori di potenziamento di forza quindi spostarti dall'addome dal centro verso la periferia e allo stesso modo anche se vuoi fare esercizi sulle braccia e beh e qui abbiamo parlato dello stretching abbiamo passato dell'illef parliamo del riscaldamento cioè si sa comunque un'altra cosa che si sa per certo e io l'avevo capito empiricamente poi vi dico come che se fai delle attività nel riscaldamento delle attività a VO2 max elevato in gara vai meglio delle attività VO2 max quindi se fai degli scatti da 40-60 metri oppure se fai un ripetuto da 3-4 minuti quasi al massimo al 95% della frequenza che abbiamo massima e si sa per certo che in gara vai meglio io questo me ne ho accorto come quando facevo periodicamente il mio lavoro in pista vedevo che che ne so i 1000 facciamo tanto per fare l'allenamento di finitura stagionale pre-gara quando facevo i 1000 il primo 1000 lo faticavo sempre dicevo cavolo il primo 1000 sono quei 5-6 secondi più legno e poi il secondo il terzo il quarto il quinto 1000 riuscivo a correre bene allora diciamo i due tempi quanto li facevo i 1000 io facevo il top della mia forma facevo sono arrivato a fare un 6x1000 a 247 248 247 248 sotto i 3 al chilometro ampiamente recupero lungo 4 minuti 4-5 minuti quindi sto parlando di uno che correva ecco di uno che un po' di esperienza in pista l'ha fatta e quindi di uno che menava in pista perché se no non stiamo parlando di un tapasione che i 1000 li faceva 5 al chilometro se no che ti sto a dire qua dietro sto video dici con chi cazzo sto parlando quindi un altro test interessante è stato fatto con diversi atleti sono stati fatti 30 secondi al massimo 4 minuti di riposo altre 30 secondi al massimo in questo tipo di eserciziazione si è visto che il primo test è andato più forte del secondo test perché come lavoro all'attacito aerobico mentre il lavoro aerobico dopo questo test è migliorato del 50% quindi capiamo bene come fare un lavoro massimale mi aiuti poi a perdisporre l'atleta al lavoro aerobico bong quindi dopo questa caduta andiamo alle conclusioni andiamo alle conclusioni e dicendo il defaticamento si fa o non si fa il defaticamento si o no un tempo si diceva il defaticamento favorisce il recupero e quindi non si deve fare perché favorisce il compenso muscolare io invece l'organismo lo devo stressare lo devo portare allo stress e quindi non devo fare assolutamente il defaticamento perché devo stressare l'organismo ok se favorisco il recupero non va bene che cosa cosa capita nel defaticamento capita che io porto all'equilibrio la sudorazione perché dopo un lavoro intenso ho sudato un casino quindi porto all'equilibrio più lentamente la mia sudorazione del corpo porto lentamente un equilibrio cardiaco del corpo e quindi potrebbe essere bello fare il defaticamento utile e uno studio pensate we 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 non me lo ricordo il nome però uno studio del 2018 pensate diciamo molto recente ha dimostrato che il defaticamento migliora la soglia anaerobica e migliora il lavoro aerobico ecco quindi concludo con questo l'effaticamento migliora sia la soglia anaerobica che il lavoro anaerobico ciao ragazzi al prossimo video al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.